La filiera legno-arredamento sta seguendo con grande attenzione la problematica delle centrali a biomasse. Che cosa sta accadendo? Nel tutto il 2010 le aziende produttrici di pannello trusolare ed MDF hanno dovuto sopportare delle continuative chiusure degli impianti per mancanza di materia prima, dovuto questo alla competizione che principalmente le centrali a biomasse hanno sulle nostre materie prime. Hanno iniziato a crescere il loro peso competitivo, a acquistare principalmente segatura prima, legno cipato dopo. Attualmente non hanno abbastanza materia prima neanche loro e la competizione si sta addirittura spingendo sull'acquisto di tronchi interi. Tutto questo nel settore del pannello trusolare ed MDF ha determinato l'impossibilità di inseguire la rincorsa dei prezzi, ha determinato la chiusura degli impianti, ha determinato la crescita dei prezzi di mercato dei nostri prodotti mettendo a rischio anche uno degli annelli principali della filiera del legno e dell'arredamento con conseguenze pesanti anche nella competitività dell'industria del mobile italiana che era la seconda esportatrice al mondo di mobili e che si vede in questo momento messa in competizione da questo fittizio aumento delle materie prime che fa sì che paesi diversi riescano a competere meglio nel settore del legno e dell'arredo in generale. Ecco, sicuramente la questione degli incentivi è una questione che tocca direttamente le istituzioni a livello decisionale. Ecco, voi su questo tema, stante il problema, che cosa state chiedendo ormai da mesi sugli incentivi? Noi chiudiamo due cose molto semplici, la eliminazione degli incentivi alle biomasse che utilizzano legno, ricordo che sono fittiziamente chiamate biomasse ma nella realtà sono centrali che per il 95% consumano legno per ritornare a una logica di libero mercato assoluto. La seconda cosa che richiediamo è una maturazione complessiva della nostra società civile nella quale riteniamo necessario privilegiare il riuso, il riciclo del legno e solamente in ultima possibilità la valorizzazione termica del legno. Questo rientra un po' nelle visioni complessive di una società matura che deve utilizzare al meglio i propri materiali. Ed è per questo che la nostra associazione europea si sta muovendo perché questo è un problema assolutamente di carattere europeo. Ecco, che tipo di risposte state ottenendo dagli istituzioni su questo? Ma noi stiamo in questo momento facendo un grosso pressing sulle istituzioni sia a livello nazionale che a livello europeo. Abbiamo delle interrogazioni parlamentari in corso dalle quali attendiamo dei riscontri. A livello di comunicazione stiamo esercitando un grosso momento di sensibilizzazione complessiva su questo elemento che si sviluppa anche a Bruxelles, nelle sedi del Parlamento di Bruxelles. Questa è un'azione corale perché il problema, come ho detto, è un problema non solamente nazionale italiano ma è un problema europeo. Abbiamo dei casi come il caso inglese che rappresenta dei paradossi assoluti dove la quantità di centrali a biomasse programmate pari a una potenza installata di 5 gigawatt prevede l'impiego di circa 40 milioni di tonnellate di legno che per dare un'idea è l'equivalente dell'intera necessità di legno dell'intera produzione europea di pannelli truciolari. Per cui una dimensione estremamente rilevante in un processo che sta subendo una forte escalation e dove la disincentivazione, cioè l'eliminazione degli incentivi, dovrebbe rappresentare il primo elemento con cui smorzare questa situazione. Come federazione nazionale a Sopannelli e Federlegno chiediamo anche un'altra cosa. Chiediamo di poter esprimere come federazione un giudizio preventivo sul rilascio delle licenze di queste nuove centrali a biomasse, proprio perché non le neghiamo in assoluto, ma vorremmo che da un punto di vista di equilibrio fisico ed economico non andassero a localizzarsi in prossimità degli impianti esistenti perché ne determinerebbero una distruzione. Con una considerazione di fondo, che è quella che il legno utilizzato in maniera tradizionale produce 10 volte il valore aggiunto e 30 volte l'occupazione rispetto alla sua valorizzazione in ambito energetico. Per cui da un punto di politica economica e industriale complessiva riteniamo estremamente pericoloso mettere a rischio uno degli assi portanti dell'industria italiana che è quello del mobile. Arriviamo alla giornata di venerdì, l'action day dell'associazione europea di tutte le imprese dei pannelli a livello europeo. Il sottotitolo di questa giornata è per un uso responsabile del legno, appunto come ci stava spiegando. Che cosa sta dietro a questa iniziativa, cosa verrà fatto e chi parteciperà? Dunque, a livello nazionale abbiamo avuto un'importante adesione a questa manifestazione, il 98% della capacità produttiva fermerà almeno due ore gli impianti nella giornata di venerdì. credo che percentuali attorno al 90% siano anche quelle dell'adesione europea a questa giornata. A questo richiamo, a questa chiamata da parte della nostra federazione europea seguiranno a livello nazionale tutta una serie di attività, dalle pagine di giornale, nel nostro caso il Corriere della Sera, alle interpellanze parlamentari, agli invio di note a tutti gli assessori regionali, oltre che evidentemente in primis ai ministri dell'industria, dell'ambiente e dell'agricoltura, per segnalare questo stato di disagio. Che ripeto, ha come suo primo obiettivo la riduzione o l'eliminazione meglio dei contributi alle centrali biomasse che usano legno, l'adozione della risoluzione di Dresda nella quale si indica la logica dell'uso responsabile del legno e come sotto ulteriori indicazioni noi certamente a questo punto dobbiamo anche andare a porre in discussione le logiche della politica agricola comunitaria per rincentivare la produzione del pioppo soprattutto nel territorio nazionale che ha ridotto e ha dimezzato la sua superficie destinata ai pioppeti da 180 mila ettari a 90 mila ettari di questo ultimo periodo. Questo è possibile solamente se mettiamo mane a un rindirizzo della politica agricola comunitaria perché è sotto gli occhi di tutti quanto ancora oggi viene indirizzato a produzioni che rimangono sui filari dove il costo della raccolta è superiore al valore della merce franco filare. Per questo occorre un indirizzo complessivo di Bruxelles.